Partono i costi standard nel mondo della sanità italiana. È un vecchio cavallo di battaglia della Lega. Significa che una siringa non costerà più un euro nel Veneto e 10 in Sicilia. Ci sarà un costo comune a cui tutti dovranno sottostarsi. La decisione presa dalla conferenza delle regioni ha riempito di soddisfazione Luca Zaia. Sarà applicata subito in via sperimentale fino alla fine dell'anno e in via definitiva a partire dal gennaio 2014. A fare da regione campione per stabilire il giusto prezzo saranno le regioni virtuose, quelle che in questo momento spendono di meno, ossia Veneto, Lombardia, Marche, Emilia Romagna e Umbria e tra 15 giorni saranno ridotte a tre. Una buona notizia per il Veneto se non fosse che anche in questa regione non mancano gli sprechi. Un esempio è costituito proprio dall'USL12, quella veneziana che aveva avviato il progetto di costruzione di un centro protonico accanto all'ospedale dell'Angelo. Una nuova speranza per i malati di tumore, una tecnica evoluta di radioterapia utilizzata soprattutto sui bambini colpiti dal cancro. Un altro ospedale per 4.000 pazienti che avrebbe dovuto sorgere accanto all'Angelo per un costo di 160 milioni di euro. Una struttura pensata dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan e dall'ex direttore generale dell'USL12 Antonio Padoan e che è stata cancellata dall'attuale presidente della giunta regionale Luca Zaia e dell'assessore Coletto. Per fermare la macchina messa in piedi però si dovranno spendere almeno 30 milioni di euro. A tanto ammontavano i danni calcolati due anni fa da rifondere alle ditte che avevano vinto l'appalto. Non è un buon esempio di gestione efficiente della cosa pubblica. Speriamo che questo scivolone non venga usato come progetto pilota per le altre regioni.